Stefano Domenicali dice basta prove libere. Calma, non è proprio così, spieghiamo. Secondo Domenicali le libere interessano soltanto gli ingegneri ma non coinvolgono il pubblico. Ultimamente l'obiettivo di Formula 1 è soprattutto quello di incrementare lo spettacolo in pista, eliminando quasi del tutto le sessioni di libere e incrementando le gare. Forse il risultato sarà quello di avere sempre un maggior numero di sprint race e sempre meno weekend con il programma classico. In questo scenario Formula 1 aumenterebbe il profitto perché nel weekend delle sprint race sostanzialmente il biglietto costa di più perché ci sono due gare, il sabato e la domenica. Personalmente mi dispiacerebbe, a me piace andare a vedere la Formula 1 proprio il venerdì delle libere perché innanzitutto c'è meno casino. Le macchine si vedono molto bene e per parecchio tempo, due ore, e così ho modo di seguire comodamente le qualifiche e la gara dal mio divano. Vedremo cosa succederà, quanto verrebbe influenzato il rendimento dei team riducendo il tempo dedicato alle prove libere.